Buonasera, allora parliamo di cinema in questa rubrica che vota infatti a Roma lo scorso mercoledì la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2019 tra i più prestigiosi riconosciuti cinematografici in Italia una sorta di Oscar del cinema italiano banca document di Matteo Garrone che ottiene non solo il premio per la Lugia Film ma anche regia, attore con protagonista sceneggiatura originale, fotografia, scenografia, montaggio, trucco e suono insomma tutto alla 64esima edizione del David trasmessa in diretta dalla Italia ecco il momento in cui in sala Piera Ritassis, neodirettore dell'Accademia del Cinema Italiano consegna il premio per l'Educazione a Matteo Garrone allora è il momento più atteso ringraziatevi ancora per il lavoro fatto e per la tua grande competenza ma grazie a tutti voi anche per chi ha avuto le parole nei miei confronti e così carine il miglior difegno David di Donatello per il miglior film della 64esima edizione da A.P. Dogman prodotta da Antinete nel fatto tra i cinema regia di Matteo Garrone ricordi questa volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti